Dino, non poteva iniziare meglio? Sì, un risultato strepitoso in una prova, quella a cronometro molto particolare, di alta specializzazione. Investiamo tanto in risorse e volontà per cercare di emergere anche in questa disciplina e oggi siamo stati ripagati, le ragazze sono state ripagate dei sacrifici che hanno fatto soprattutto nell'ultimo periodo. È stata una bella sorpresa, non pensavamo alla vigilia una prestazione del genere, invece sia Lisa che Aless sono state veramente grintosissime, non hanno lasciato spazio e speranze alle avversarie. Prima e seconda del campionato italiano, adesso seconda e prima comunque sul podio, insomma, cresce il movimento, sembra? Quello delle junior di quest'anno, dopo tutto quanto è già arrivato su pista, conferma di una grande sinergia con tutto il movimento e dell'efficacia del metodo di preparazione che attuiamo. È chiaro che dove si abbassano le velocità, perché i percorsi sono un pochino più impegnativi, noi riusciamo ad emergere rispetto magari a corridori che hanno più potenza, più attitudine a gare veloci rispetto alle nostre. Noi siamo veramente felici di quanto stiamo realizzando con le donne junior quest'anno e vorremmo tantissimo poter dare continuità a tutto quanto stiamo costruendo.